Buona giornata! Eccoci di nuovo al santuario di San Francesco a Monte Rosso, sul mare. San Francesco è questa statua che vedete qui accanto. E vi porto una bellissima frase sua, un bellissimo brano suo. O Signore, fa di me uno strumento della Tua pace. Dov'è odio? Che io porti amore. Dov'è offesa? Che io porti il perdono. Dov'è discordia? Che io porti la fede. Dov'è l'errore? Che io porti la verità. Dov'è la disperazione? Che io porti la speranza. Dov'è la tristezza? Che io porti la gioia. Dove sono le tenebre? Che io porti la luce! Sì! La luce di Dio. La luce della fede. La luce, la stessa luce che ha portato San Francesco nella sua vita. Oggi vi chiedo di riflettere su questa frase, su questo brano. Perché a me veramente mi ha cambiato la vita. Mi ha dato tantissimo. È un brano veramente che io leggo e rileggo ogni tanto. Proprio perché mi dà modo di essere focalizzato sulle cose che contano nella vita. sulle cose che io devo portare nella vita. Come diceva un altro grande, porta per primo il cambiamento che vuoi vedere nel mondo di Mahatma Gandhi. È quindi la stessa cosa. Quindi devi essere prima te a portare tutto questo cambiamento. E tutto questo cambiamento sarà guidato dalla fede che hai in Dio, in quello che vuoi, nella natura, in quello che vuoi. Ma, mi raccomando, porta prima te il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Daniele Pace, per felicità e pace. Veni, sante spiritus. Veni per Maria. E anche con San Francesco. Buona giornata. Ciao! Ciao!